e papà anche oggi ho fatto spendere troppi soldi perché mi ho preso tre lol falsi ho speso mille euro una me la faccio vedere dopo e intanto vi faccio vedere quelle che ho fatto ma che cosa? perché? che cosa abbiamo fatto oggi? dove mi ha portato? dal? dal cino dal cino che sarebbe? il cino di pizza allora iniziamo ma si ma aspetta prima di iniziare perché abbiamo trovato delle lol dal cino di pizza che costano poco allora iniziamo con la più pratezza di tutti io non ho fatto la pena con alcune cose poi queste scarpette già le avevo questo vestito che non è brutto no che è brutto ma andiamo a vestire la lol super lol papà non è la super lol una lol che non c'è nessuno al mondo si nessuno? si neanche me contro te? no ok ecco qua ancora e eccola quella per mettere le ali wow e poi passiamo a una cosa un po' più carina per mettere le ali prima è questo qui carino che cos'è? il vestito super high tech? per mettere le ali non è quello le ali che sono sue per mettere le ali queste dopo le voglio mettere anch'io ma io di ecco là cascano intanto le lol un po' le abbiamo perse ieri racconta poi ieri che cosa è successo cosa è successo ieri? che ieri mi ero dimenticato lo zaino qui dove? io pensavo che mi ero dimenticato lo zaino in macchina ma in macchina non c'era papà è andato alle saline se non c'era con tutte le mie lol quelle vere le barbie e anche le barbie che ti ha regalato? la pizzeria Alberto poi c'è questa questa e qui che sono di un altro lol questo qui per mettere i cammi e questa wow che carina che fa questa? niente fai scureggio? no guardate io l'ho fatto la pelle in un colore questo e l'altro allora andiamo alla pittura perché così non si può guardare ma come se vede ok il ginocchio ciao io sono la nuova lol mi chiamo Gesualda ti voglio dare un bacino ciao piacere di conoscerti tu come ti chiami? mi chiamo io come ti chiami tu? io violante no tu l'altra l'altra è mia amica azzurra ciao azzurra tu che classe fai? io faccio le medie ah allora sei più grande di me perché io sto facendo ancora esattamente il libro delle lettere oggi ho fatto la M tu hai fatto la M? guardate qui sta right left ah che significa? destra e sinistra wow in english wow ok queste sono le due lol che abbiamo trovato ma io so che c'è un pacchetto nuovo è vero? allora lo vado ancora a vedere fa vedere il nuovo pacchetto ancora no aspetta ma come se mi tocca ce l'hai fatta a fare ce l'hai fatta a mettere il tuo bel volo eccolo qua ok vieni qui vicino a me vieni qui vicino a me eccomi aspettati allora ecco quelle due lol perché ecco qui due lol che belle ma aspetta facciamo il confronto con il cane del lol vero perché mi è rimasto questa è la lille però la lille sta allora guardate quale vi sembra più bello? scrivetelo sotto nei commenti poi quale vi sembra più bella? adesso cosa succede? ora andiamo a vedere cosa succede adesso? è circolata mia questa cosa succede? andiamo a vedere la nuova aspetta all'avvenimento importante che cosa succede adesso? in azulto fa vedere quanto costa allora 2 euro e 50 brava allora intanto guardate quanto è fatta bene qual è la differenza con quelle vere? che quelle vere stanno nella bolla queste stanno nella bustina e per contattare che stanno nelle carte e per contattare la sasso carta forbice però vedi come questa cosa una volta mi hanno dato carta e due forbici poi la seconda volta mi hanno dato tutte e tre sasso, carta e forbice e la quarta volta mi hanno dato carta, carta, carta ma andiamo adesso ad aprire vai 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 che ci sei ok ok ooooo allora vediamo le carte guardate che due forbici mi hanno dato bello ma mi sa proprio che è un pezzo no non è un pezzo andiamo a vedere il biberone è quello lì il vestito è quello lì poi il corpo è quello lì prima guardate la scappa che sono quelle lì poi andiamo a vedere il fiocco e la testa che bella è bruttissima oh ecco lì andiamo ciao ciao guardate la pelle è completamente diversa vabbè vabbè quindi guardate anzi noi portiamo il fiocco guardate tutto è bianco è una serbaccia guarda mettiamo qui così connetto ma papà è in quadro e allora sei contenta non sei contenta non devo ritrovare un'altra sì che sono contenta forza vediamoci con l'ora di con te vai fai ciao presentala vai ai nostri amici io ho 14 anni mi chiamo Danina mi chiamo Danina e mi chiede per farmi lavare che il fiocco si toglie facilmente e poi la faccia questa è una cosa che no allora io a uno a dieci darei zero bello poi vedete tutelare insieme e salutiamo vai ciao ciao io mi chiamo Laura facciamo prima il confronto ma quello non puoi fare il confronto questo è un pezzo vabbè falle vedere tutti vai falle vedere wow questa è quella di papà la più brutta grazie scherzo se lo levi va bene saluta e ci vediamo guardate sono i miei denti che sono gemelli salutiamo da papà e violante ciao 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 ciao